Allenamento di buon mattino e poi viaggio verso Reggio Emilia, via ad un nuovo ciclo di trasferte per la Scandone che domani sera sfiderà la Grissen Bon al Palabigi. Per la Sidigas di Sacripanti l'incrocio con gli emiliani riserva sempre qualcosa di speciale, come spiegato dal tecnico Bianco Virda in conferenza stampa. Non c'è stato tanto tempo per preparare la partita, chiaramente visto che ieri non abbiamo fatto niente di agonistico, abbiamo fatto più gatto riunioni e un po' di walkthrough nel campo con un po' di tiro. Oggi è stato un allenamento leggermente diverso da quello che riguarda i soliti pre-partita, perché è stato un po' più intenso del solito, avendone solo una disposizione, un po' più mirato su certe cose tecniche e tattiche e anche un po' di intensità. Quindi andiamo e speriamo di fare una bella partita, soprattutto con della qualità del gioco a dire del risultato. Lo sguardo è rivolto solo alle prossime sfide, prima con Reggio e poi con Nimbork in Champions. Il coach Canturino tiene lontane le voci sul rinnovo, per quanto felice di una prosecuzione in Irpinia. Sono molto concentrato su quello che sto facendo, si gioca ogni tre giorni, il mio pensiero in questo momento non è lì, perché non c'è stato niente. Poi dopo quando ci sarà è giusto che io prenda considerazione, la proprietà prenda considerazione, può anche non esserci magari, perché non è dato per scontato.